Commentando le sue dichiarazioni sulla sicurezza dei giorni scorsi, Andrea Orlando ha detto che Luca parla dei nigeriani e non della Camorra, di Salvini ne basta già uno. Non so se ha fatto questa affermazione, ma se l'ha fatta è un'affermazione assolutamente sciocca. Intanto perché dovrebbe sapere che il primo atto della regione Campania è stato il protocollo intesa con l'ANAC per gestire insieme con l'autorità anticorruzione le gare riguardanti i rifiuti, il ciclo dei rifiuti e il ciclo delle acque, che sono i due campi nei quali la Camorra fa affari. Poi perché evidentemente non sa che la regione ha finanziato la videosorveglianza nei quartieri più a rischio di Napoli pur non avendone competenze. C'è probabilmente disinformazione e piano piano faremo arrivare le notizie anche a chi parla senza sapere. Avremo la partenza di un reparto nuovo a Nola.